3, 2, 1... I TRIGIOGIO GENOVALDE! Eeeh! Sei proprio un coglione, per poco non ti sparavo. Vabbè stato un altro incidente, tanto per te che cambia. Che cosa stai insinuando? Ah, bravo, te ne vieni, 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 sto qua. Hai pestato la merda. Oh, ah! Jura! Grupo Grigio, mi ricevi? Non riusciamo a localizzare la vostra posizione. Aique con tolare la vostra posizione. Esos switch Ferrari... ...enpress... Terima ventana... Re-